ciao ragazzi e bentornati a questo ottavo episodio dedicato al testo oggi vediamo un tipo di selettore chiamato deformazione movimento se avete il software in inglese lo trovate come wiggle selector vediamo cosa ci permette di fare e una volta creato il nostro testo dal menu anima andiamo ad aggiungere una proprietà di posizione e modifichiamo il suo valore verticale portando il nostro testo verso l'alto e se modifichiamo l'intervallo con la proprietà di inizio vediamo che le lettere tornano in ordine nella loro posizione originale e fin qui nulla di diverso da quello studiato fino ad ora però adesso andiamo ad escludere la parola deformazione dell'intervallo quindi prendiamo la barra di inizio del selettore e la spostiamo adesso dal menu aggiungi andiamo a scegliere un altro tipo di selettore che possiamo andare a inserire nel gruppo animatore e sotto quello che gestisce l'intervallo abbiamo questa voce deformazione in movimento una volta inserito vedete che tutte le lettere all'interno dell'intervallo vengono influenzate da questa casualità sull'asse y verticale vedete come alcune vanno verso l'alto e alcune verso il basso e se le modificassi in orizzontale vedete come questa casualità avvenga anche sull'asse x probabilmente state pensando che questo selettore sia simile all'opzione di casualità vista nell'opzione avanzate del selettore intervallo ma non è così infatti non a caso si chiama deformazione in movimento perché a differenza delle animazioni fatte con le proprietà di inizio fine e scostamento del selettore intervallo attraverso i fotogrammi chiave questo è auto animato e cioè non servono fotogrammi chiavi per muovere il nostro testo e se ora vado in riproduzione vedete come le lettere influenzate da questo comando si muovono automaticamente sul valore verticale della proprietà di posizione per cui sintetizzando il selettore intervallo decide la porzione del testo che verrà animata grazie alla sua linea di inizio e di fine e viene inserito di default con il gruppo animatore mentre il selettore deformazione in movimento influenza la porzione del testo all'interno dell'intervallo se infatti andiamo a vedere il contenuto di questo selettore non possiamo decidere dalle sue proprietà la porzione del testo da selezionare per animarlo infatti non ci sono né proprietà di inizio di fine o di scostamento ma una serie di opzioni per gestire questo movimento casuale andiamole a vedere considerate che di tutte queste proprietà quelle più utilizzate sono giusto un paio ma le passiamo velocemente in rassegna tutte la prima voce è quella della modalità ovvero la fusione tra i caratteri che possiamo gestire dal suo menu laterale le due opzioni subito sotto sono quantità massima e minima queste regolano la posizione delle lettere in base alla in pratica possiamo spostare le lettere inferiori verso l'alto con il valore di massimo poi spostare quelle superiori verso il basso con il valore di minimo oppure bilanciarle per avere distanze differenti tra le lettere poi abbiamo l'opzione basato su che è la stessa opzione vista anche nelle avanzate del selettore intervallo e anche in questo caso se impostato su caratteri la deformazione avviene lettera per lettera nella seconda opzione possiamo escludere gli spazi dalla terza possiamo muovere solamente le parole oppure con la quarta possiamo movimentare tutta la riga del testo ma riportiamolo su caratteri e arriviamo a una delle proprietà principali di questo selettore ovvero la deformazione al secondo che gestisce la velocità di movimento della deformazione che di base si trova un valore di due per cui significa che ogni secondo il testo subisce due deformazioni di movimento che corrispondono a un determinato movimento casuale ma se aumento la deformazione per secondo e magari porto il valore a 25 allora significa che ogni secondo ci saranno 25 deformazioni sul nostro testo pertanto la velocità aumenterà parecchio e infatti vedete come si muova in maniera molto più nervosa il nostro testo ma se invece porto il valore a zero allora non avremo più il movimento delle lettere ma solo la deformazione per cui rimarranno comunque in una posizione casuale poi l'opzione sottostante quella della correlazione ovvero questo è un valore che va a mediare il movimento con la deformazione ovvero la posizione delle lettere tradotto in soldoni questa proprietà gestisce la distanza tra le singole lettere durante il movimento al 50 per cento la casualità tra la distanza delle lettere in alto in basso diciamo è equilibrata ma se portiamo questo valore a zero allora avremo una distanza di casualità con il movimento massima mentre se lo portiamo al 100 per cento questa distanza del movimento casuale si annulla ma fate attenzione fino al 90 per cento circa abbiamo dei minimi cambiamenti tra le distanze ma dal 90 per cento in poi prima di annullarsi la distanza è talmente minima che va a generare dei movimenti particolarmente sinuosi infatti vedete che con questi valori in percentuale creiamo questo testo queste onde di testo che si muovono in maniera sinuosa in maniera progressiva bene ripristiniamo anche questo valore e lo riportiamo al 50 per cento e passiamo alle due opzioni che troviamo sotto la fase temporale e la fase spaziale che fondamentalmente cambiano l'allineamento delle lettere della posizione di partenza quindi spostando quelle in basso verso l'alto e quelle in alto verso il basso e arriviamo al blocca dimensioni questa proprietà mantiene le proporzioni delle lettere ma prima di farvi un esempio specifico vorrei farvi notare che questo selettore di deformazione funziona con tutte le proprietà che inseriamo all'interno del gruppo animatore e se ora vado a cancellare la proprietà di posizione e vado ad aggiungere quella di sfocatura aumentando il suo valore se mando in riproduzione vedete come il movimento casuale influenza il nostro testo in questo caso la sfocatura si nota piuttosto bene che avviene su entrambi gli assi ma possiamo disattivare la catenella per decidere come vogliamo che avvenga quindi porto il valore dell'asse x a 0 e ora la sfocatura viene solo in verticale bene l'andiamo a cancellare e andiamo ad aggiungere anche una proprietà di riempimento rgb che a sua volta verrà animata in maniera casuale pertanto alcune lettere diventeranno rosse e altre resteranno scure ma vi faccio notare anche questa cosa se vado a portare il valore della palette colori su un colore neutro come il bianco ottengo questa casualità dei colori su tutte le lettere e quindi avremo un passaggio di tutta la ruota dei colori su tutte le lettere puntualizzato questo concetto andiamo a cancellare la proprietà di riempimento e aggiungiamo quella di scala e riportiamo la porzione dell'intervallo per tutta la lunghezza del nostro testo e quindi spostiamo la barra d'inizio del selettore fuori dal testo a sinistra ora andiamo a modificare la scala e notate come le lettere subiscono questa deformazione sia in verticale che orizzontale e se mandiamo in riproduzione notiamo che senza una proporzione delle lettere il testo non è molto leggibile ecco perché possiamo utilizzare l'opzione blocca dimensioni attivandolo vedrete che ora le lettere si ingrandiscono casualmente mantenendo le proporzioni con un risultato sicuramente più comprensibile bene andiamo a cancellare anche la scala e andiamo inserire nuovamente una proprietà di posizione dal menu aggiungi andiamo a spostare i valori dell'asse verticale e ora che abbiamo tutte le lettere sparpagliate sul nostro monitor ci spostiamo all'ultima proprietà ovvero il numero casuale anche questa proprietà che è simile a quella delle opzioni avanzate del selettore intervallo con la quale possiamo assegnare un numero che corrisponde a un'animazione casuale differente infatti andando inserire dei numeri differenti abbiamo animazioni che partono da punti diversi bene quindi ricapitolando possiamo usare questo selettore per creare un movimento al nostro testo in maniera casuale e se utilizzato in maniera indipendente quindi senza utilizzare per forza il selettore intervallo il nostro testo continuerà a muoversi per tutta la durata della composizione se invece da una situazione come questa lo vogliamo ricomporre e riportare alla sua forma e posizione originale allora possiamo utilizzare il selettore intervallo tramite i suoi valori di inizio fine e scostamento facciamo alcuni esempi posso andare a creare un leggero movimento spostando di 5 pixel i valori orizzontali verticali della proprietà di posizione e come velocità gli vado a impostare una deformazione al secondo di 1 ora se mando in riproduzione avremo questa vibrazione del testo molto leggera ma se porto i valori di posizione a 10 pixel verticali 10 orizzontali e porto la velocità a 10 deformazioni per secondo allora avremo questo movimento più agitato in entrambi i casi per riportare il testo in originale andiamo ad animare uno dei parametri del selettore intervallo e ci portiamo con la linea del tempo a 0 secondi e questa volta sul valore d'inizio accendo l'orologio poi mi sposto con la linea temporale a 3 secondi e vado a riportare il suo valore al 100% quindi in fondo fuori dal testo mandiamo in riproduzione e il nostro testo man mano che il selettore intervallo esclude le lettere queste tornano alle loro caratteristiche originali partendo dall'inizio verso la fine e durante questo movimento del selettore vediamo che comunque il selettore della deformazione in movimento continua a funzionare bene ma se volessimo invece un riposizionamento graduale di tutte le lettere del nostro testo allora possiamo utilizzare un'altra proprietà che si trova all'interno delle avanzate del selettore intervallo quindi spegniamo l'orologio sul valore d'inizio e cancelliamo l'animazione entriamo adesso nelle avanzate e se ricordate il valore di quantità regola l'incidenza della nostra animazione per cui ci portiamo a tempo 0 accendiamo l'orologio e a 3 secondi portiamo il suo valore a 0 in questo modo l'animazione si annulla e lo fa in maniera graduale grazie all'interpolazione dei fotogrammi se l'avessi portato a meno 100 allora avrei invertito la nostra animazione come avevamo già visto quindi mandiamo in riproduzione e il risultato che ne consegue è che tutte le lettere contemporaneamente tornano nella loro posizione originale in maniera graduale bene direi di fare un ultimo esempio andiamo a cancellare anche questa di animazione su questa proprietà e se ora volessi invece che le lettere si riposizionano una alla volta ma in maniera progressiva allora dovrei fare in un altro modo ancora e questa volta vado a cambiare la forma dell'animazione quindi sempre dentro le avanzate del selettore intervallo mi sposto sul menu forma e vado a scegliere la modalità accelerazione ed essendo che viene utilizzata maggiormente con il valore di scostamento vado a definire la porzione dell'intervallo pertanto l'inizio del selettore lo porto a circa metà del testo dopodiché a tempo zero accendo l'orologio sulla proprietà di scostamento e porto il suo valore in negativo spostando la porzione dell'intervallo fuori dal testo a sinistra e a tre secondi lo riporto con un valore del 100 per cento per cui se mandiamo in riproduzione abbiamo ottenuto un riposizionamento del testo in maniera progressiva mantenendo tutte le proprietà del no della nostra deformazione in movimento bene ragazzi anche per questa lezione ci possiamo fermare qua ma sappiate che rivedremo la deformazione in movimento sotto altre vesti durante questo corso per cui ci vediamo al prossimo episodio dedicato al testo ciao